Ciao a tutti, benvenuti o bentornati sul mio canale, io sono Silvia e oggi, nuovo video. Vi ricordo che se avete piacere potete anche seguirmi su Instagram e vi ricordo che sono attiva anche su Facebook, vi lascio il link nell'info box. Detto questo, diamoci dentro col video. Il caso di oggi è rimasto irrisolto per più di due decenni e ha sollevato molte domande sulla gestione delle indagini da parte della polizia, soprattutto considerando il ruolo rivestito proprio dalla protagonista. Stephanie Lazarus nasce il 4 maggio 1960 e cresce a Inglewood, nella contea di Los Angeles, dunque in California. I suoi genitori si chiamano Shelton e Carol e ha due fratelli più piccoli. Stephanie vive un'infanzia tutto sommato comune, c'è un periodo in cui la sua famiglia deve affrontare delle difficoltà finanziarie, ma, a parte questo, Stephanie cresce serenamente. È molto brava a scuola, ha un sacco di amici e si dimostra abile negli sport. Ama il softball, il basket, il tennis. Tuttavia, la sua carriera sportiva diventa estenuante a causa di una persona a lei molto vicina, suo padre. Lui è davvero esigente. Esercita una notevole pressione su Stephanie affinché lei gareggi al massimo delle sue possibilità. assiste a ogni singola partita a cui la figlia partecipa, spesso urlandole di fare di meglio. Stephanie, dunque, ama gli sport, ma non riesce a godersi i momenti in cui li pratica, perché avverte questa forte pressione provenire da suo padre, che si aspetta che lei sia sempre, e dico sempre, la migliore. Ecco perché la relazione tra Stephanie e il papà si incrina man mano. Lui la rimprovera in continuazione, ricordandole che non può farsi superare dagli avversari. Lei, di conseguenza, prova disagio e arriva a detestarlo, anche se le preme a contentarlo. Cerca disperatamente di raggiungere nuovi traguardi per renderlo felice, ma purtroppo tutto l'impegno che Stephanie ci mette non è mai abbastanza per suo padre. Questo rapporto controverso con la figura paterna genera un impatto non indifferente su Stephanie. All'età di 15 anni, poi, accade un evento significativo nel contesto familiare della ragazza, ovvero i suoi genitori divorziano. In seguito, Stephanie e i suoi due fratelli, che hanno 11 e 13 anni, sono costretti a scegliere con chi dei due vogliano vivere. Entrambi i fratelli minori prendono la decisione di rimanere con il padre, mentre Stephanie, che ha un rapporto teso con lui, preferisce restare con la madre. In ogni caso, quello che si presenta è un enorme cambiamento per la ragazzina, che passa dal vivere con tutta la famiglia unita, composta da ben 5 persone, ad abitare da sola con la mamma. Inoltre, questa sofferta separazione non è limitata al risiedere in due case diverse, perché va ancora oltre. Infatti, per il resto dell'adolescenza, Stephanie vedrà a malapena sia suo padre che i suoi due fratellini. Il divorzio dei genitori e la scelta che i figli hanno dovuto assumere, in merito alla figura con cui continuare a stare, ha creato una frattura ancora più estesa nella famiglia. Comunque, Stephanie cresce, si diploma, e decide di proseguire il suo percorso di studi al college, per conseguire una laurea che le permetterà di diventare avvocato. Così, nel 1978, a 18 anni d'età, Stephanie comincia a frequentare la UCLA, l'Università Pubblica di Los Angeles. Si trasferisce nel dormitorio del campus e nel nuovo ambiente si trova davvero bene. Fa diverse amicizie, si dimostra molto capace dal punto di vista accademico, quindi prende ottimi voti agli esami, e, proprio in questo periodo, incontra un uomo di nome John Ruetten. John è iscritto al secondo anno di college e studia ingegneria medica. È un ragazzo atletico che gioca in numerose squadre sportive universitarie. Già dopo il loro primo incontro, Stephanie e John entrano profondamente in sintonia dal punto di vista amicale, perché scoprono di avere tanti interessi simili. Stephanie adora ancora lo sport, anche se col tempo è diventato più un'ossessione, anche a causa di quelle pressioni che ne metteva addosso suo padre quando era una ragazzina. Ora che frequenta il college, Stephanie fa parte di numerose squadre universitarie, quella di basket, di tennis e di atletica leggera. Poi trascorre tantissimo tempo in palestra, nella sala pesi, dove si allena costantemente anche John. I due stanno insieme per la maggior parte delle giornate, e col passare del tempo la ragazza sente che l'amicizia per John sta diventando qualcosa di più, perché prova dei sentimenti d'amore per lui. Purtroppo però John non le ricambia affatto. Nonostante le avance di Stephanie, John non dimostra alcun interesse per lei, che vada al di là dell'amicizia. Alla fine Stephanie si stufa di questa situazione che le appare incerta, così chiede a un amico in comune di parlare con John, per assodare chiaramente se lui abbia un minimo di interesse nei suoi confronti. Quello che John rivelerà all'amico di certo non renderebbe felice nessuna donna, ovvero Stephanie ha un corpo fantastico, ma il suo viso lascia desiderare. Ciononostante John non prende le distanze da lei, anzi, ora che è consapevole dei suoi sentimenti, ci prova gusto nel ricevere le sue attenzioni. John e Stephanie iniziano ad andare alle feste universitarie insieme. Di tanto in tanto lui le concede qualche bacio, restano in giro fino a notte fonda e parlano molto. Inoltre giocano spesso insieme a basket. Con il passare del tempo, Stephanie sviluppa per John un'autentica ossessione, illudendosi che il ragazzo ricambi i suoi sentimenti. E in effetti John le fa credere di essere interessato a lei, incurante del fatto che Stephanie adotti sempre più spesso degli atteggiamenti da stalker. Ovunque si trovi John nel campus, Stephanie appare a fianco a lui. E una notte addirittura lei entra nel dormitorio di John, mentre il ragazzo sta dormendo e gli scatta delle foto mentre è in mutande. Inoltre quando John fa la doccia nei bagni comuni, Stephanie si intrufola all'interno e gli ruba i vestiti, così lui, una volta terminato di lavarsi, è costretto ad andare in giro nudo per cercare i propri abiti. E Stephanie nel frattempo resta lì a godersi lo spettacolo. Il comportamento della ragazza diventa più inquietante giorno dopo giorno, ma John non fa nulla per fermarla. Non le dice mai che tutte queste attenzioni sono indesiderate, non le chiede mai di riflettere e modificare il suo atteggiamento, perché si compiace fin troppo di ricevere questo interessamento costante da parte di Stephanie. Dunque intanto John la tiene lì a parcheggio come fosse un'automobile, pensando che se lui non troverà nessun'altra ragazza che ritiene al proprio livello, potrà semplicemente fare marcia indietro e mettersi con Stephanie. D'altronde lei è sempre lì e sa che non lo rifiuterà mai. Gli basterà schioccare le dita e Stephanie correrà da lui anche a occhi chiusi. Quindi la relazione tra i due continua e assomiglia maggiormente a quella di due fidanzati. Passano sempre più tempo insieme, anche viaggiando, finché John non prende persino la decisione di far conoscere Stephanie e i propri genitori. La madre e il padre di John la adoreranno e l'affetto è reciproco, tanto che Stephanie diventa quasi un membro della loro famiglia. Si sente ben integrata nel nucleo e questo è tutto ciò che desidera da quando i suoi genitori si erano separati. Adesso Stephanie ama sia John che la sua famiglia, quindi i suoi sentimenti diventano ancora più forti. Si proietta in un futuro immaginario dove si vede sposata con John e tutti insieme acudiscono i loro figli. Insomma, Stephanie è più determinata che mai a conquistare finalmente John, ma c'è il solito problema. Lui le dà ancora segnali contrastanti, lo fa per tutto il tempo che trascorrono insieme al college, sottoponendola ai suoi sbalzi d'umore e di pensiero, a volte affettuoso, altre volte incredibilmente freddo e distaccato. Capita spesso che John passi a prendere Stephanie per recarsi a una festa insieme, dove passano tutta la serata da ammureggiare, ma poi la riporta a casa e non le parla più per una settimana intera. La situazione va avanti in questo modo per ben due anni. Poi quando John si laurea, si lascia Stephanie alle spalle dato che lei ha un altro anno ancora da frequentare. Stephanie, quindi, resta al college e non ha idea di come evolverà questa relazione con John. In ogni caso, anche durante l'ultimo anno del college, Stephanie non riesce a smettere di pensare a lui, è John che vuole. Si sta struggendo d'amore per lui, che invece l'ha abbandonata, finché scopre dove si è trasferito e inizia a presentarsi fuori dal suo appartamento senza preavviso. Questo è un atteggiamento persecutorio, che si ripete più volte. E allora cosa fa John? Beh, invece di parlare a Stephanie sinceramente, per dirle che non è interessato a lei e che le sue visite a sorpresa sono inopportune, decide di andarci a letto per la prima volta. Infatti, anche se durante gli anni del college si scambiavano baci e carezze, Stephanie e John non erano mai andati oltre. Onestamente non condivido affatto l'atteggiamento di John, secondo me non si sta comportando in modo corretto. Anzi, tutt'altro. Ma ci vuole tanto a prendere da parte una ragazza che è chiaramente infatuata da anni e dirle la verità? Perché illudere così le persone? Perché approfittarsi dei sentimenti altrui? Come immaginabile dopo essere andata a letto con John, Stephanie si convince che tutti i suoi sogni finalmente si siano avverati. Ma purtroppo John non ha alcuna intenzione di impegnarsi in una relazione seria, anche se da questo momento in poi è lui che chiama Stephanie. La va a prendere la porta nel proprio appartamento col solo fine di andarci a letto e divertirsi un po'. Tuttavia non parla mai onestamente con lei e non le dice chiaramente in faccia che non vuole una storia seria. La usa per soddisfare i propri desideri intimi continuando a ingannarla. Chiariamo, non sto dicendo che Stephanie sia innocente perché si comporta da stalker, ma in queste dinamiche nessuno dei due è incolpevole. La coppia ora trattiene rapporti intimi regolarmente più volte a settimana. Stephanie va nell'appartamento di John e stanno insieme per tutta la notte. Dunque crede che lui sia ormai il suo fidanzato, anche se non ne hanno mai parlato concretamente. Infatti John non considera Stephanie allo stesso modo e lei non sa nemmeno che lui, alle sue spalle, va a letto anche con altre donne. Tornando al percorso di studi di Stephanie, come detto, lei sognava di fare l'avvocato. Ma quando si laurea, cambia idea. Vuole diventare un agente di polizia, una professione che si adatta perfettamente alla sua personalità, che la porterà ad allenarsi sempre in palestra e in cui potrà dimostrare la propria capacità nel relazionarsi con le persone. Stephanie, in effetti, supera il programma di formazione a pieni voti, sia dal punto di vista fisico che intellettuale e si ambienta con molta facilità. Fin dai primi passi nella sua carriera, riceve parecchi elogi. Stephanie è brava nel suo lavoro e ama ottenere risultati importanti. È ben organizzata e attenta ai dettagli. Tuttavia, in questo periodo, il suo comportamento cambia drasticamente. Stephanie sa come farsi apprezzare dalle persone e questa qualità deriva anche dal modo esigente in cui suo padre l'aveva cresciuta, perché lei aveva sempre voluto compiacerlo e ora replica questa sua attitudine di assecondare gli altri anche nel lavoro. Stephanie brama l'attenzione e i complimenti da parte dei suoi superiori, che riproducono quel clima di tensione che aleggiava tra lei e il padre. Infatti, Stephanie lavora in un ambiente tossico. Le forze di polizia negli anni Ottanta sono in gran parte dominate da uomini misogini e razzisti. Le donne vengono disprezzate perché si ritiene che non possano fare un buon lavoro tanto quanto un uomo. Stephanie è determinata a dimostrare il contrario, ma affronta la sfida in modo sbagliato, decidendo di uniformarsi agli uomini che ha intorno. Così, quando i suoi colleghi insistono con le battute misogene o razziste, o comunque inappropriate, lei si unisce a loro adottando lo stesso atteggiamento. Anche lei fa commenti razziste e sessisti, denigrando le donne vittime di crimini. Cerca l'approvazione maschile insinuando che lei non è come le altre. Stephanie è presuntuosa, arrogante e si crede al di sopra della legge, perché è un agente di polizia. Addirittura elude le multe per eccesso di velocità e commette dei piccoli reati, sfruttando questo suo status di poliziotta per farla franca. È convinta di essere intoccabile, insomma, rispecchia esattamente il tipo di persona che non dovrebbe mai essere ammessa nelle forze dell'ordine. È chiaro che Stephanie sta cambiando drasticamente, eppure c'è qualcosa che continua a essere una costante nella sua vita, ovvero l'ossessione per John. A questo punto Stephanie ha 24 anni, ne sono trascorsi circa 6 da quando lei ha incontrato John per la prima volta, e anche se lui continua a sfuggire a una relazione seria, i due ne coltivano ancora una a sfondo intimo. Stephanie si rifiuta di uscire con qualcun altro, John è l'unico uomo al mondo adatto a lei, quindi non ha alcuna intenzione di arrendersi. È convinta che, se porta ancora pazienza, John finalmente si impegnerà con lei. Prima o poi, lui si renderà conto di quanto lei sia una brava donna, si sposeranno e vivranno felici e contenti, esattamente come in una favola, ma John non è affatto il principe azzurro che Stephanie sogna. Infatti, nell'inverno del 1984, John inizia a frequentare un'altra donna di nome Sherry Rasmussen, di nascosto da Stephanie. Sherry ha 27 anni, quindi è più grande di John di due anni, e ha tre anni in più di Stephanie. Lavora come infermiera e tutti affermano che è bravissima nel suo mestiere, è premurosa e affidabile nel relazionarsi con i pazienti. Nonostante la sua giovane età, Sherry, infatti, è già una direttrice di servizi infermieristici presso il Glendale Adventist Medical Center. Appunto, a Glendale, in California. È proprio una delle dirigenti infermieristiche più giovane del paese. Sherry lavora a Sodo, e che sia una ragazza talentuosa è evidente fin dai tempi del liceo, dove aveva ottenuto ottimi voti entrando al college a 16 anni. Aveva conseguito un master alla Loma Linda University e ha ricevuto molteplici promozioni nei suoi sette anni di lavoro come infermiera. Nel 1984, Sherry e John si sono incontrati a una festa di un amico in comune ed è stato amore a prima vista. Lui le ha chiesto immediatamente il numero di telefono e, dopo un paio di uscite, ha iniziato una storia seria con lei. John, così restio alle relazioni impegnative, si è invaguito subito di Sherry. Afferma che è bellissima e affascinante, lui adora parlare con lei, passarci quanto più tempo possibile insieme. Tuttavia, c'è un problema, e non indifferente. Stephanie. Lei e John non si vedono da un po', la loro relazione occasionale sembra essere caduta nel dimenticatoio, ma pochi mesi dopo l'inizio della relazione tra John e Sherry, Stephanie riappare improvvisamente per organizzare una festa di compleanno a sorpresa per John. Ovviamente tra gli invitati non è stata inclusa Sherry, visto che Stephanie non sa nemmeno della sua esistenza, siccome John la sta frequentando di nascosto. Durante la festa, però, Stephanie, andando in giro, sente pronunciare il nome di Sherry più e più volte. Ascolta con attenzione una ragazza, che, chiacchierando con qualcun altro, dice, Oh, hai sentito? John sta frequentando una tipa di nome Sherry. Stephanie a questo punto si infuria. Pensa insistentemente a chi diavolo possa essere questa Sherry. Così si decide a fare qualche domanda in giro, per poi scoprire che John ha una relazione piuttosto seria con questa donna sconosciuta. Dire che Stephanie è indignata è un eufemismo. Si precipita da John ed esclama come ti è venuto in mente di impegnarti seriamente con un'altra donna? Perché non mi hai detto niente? Io ero convinta che noi due avessimo una relazione. Perché con me non ti sei mai impegnato? Cos'ha lei che io non ho? John le risponde semplicemente che non deve darle nessuna spiegazione, dato che non sono mai stati insieme seriamente. Che lui non le aveva mai promesso niente. Stephanie allora lascia la festa con il cuore spezzato e nelle settimane successive telefona spesso alla madre di John per comunicarle quanto sia devastata dal fatto che suo figlio abbia un'altra ragazza. Stephanie ripete alla mamma di John che è lei quella giusta per lui. Inquadra questa situazione come una sfida che sicuramente vincerà perché è certa di poter riconquistare John. Ed ecco che Stephanie riprende a bussare all'appartamento di John dove è presente anche Sherry. Tuttavia Stephanie afferma che lei e John sono solo amici e Sherry ci crede perché John non rivela mai che lui e Stephanie avevano avuto una relazione intima duratura. Quindi John non solo si è comportato innegabilmente male con Stephanie che per quanto sia una stalker fuori controllo non è mai stata respinta o allontanata anzi è stata illusa per anni. In più ora John mente anche a Sherry la donna che dice di amare davvero. Sherry meriterebbe di sapere la verità ma John non ha la correttezza di spiegarle quale rapporto ha con Stephanie. e tra l'altro permette alle due donne di incontrarsi e di parlare come se lui non stesse nascondendo nulla. Stephanie d'altro canto è convinta di poter ottenere ciò che vuole comportandosi in questo modo. Se continua a far visita a John di certo potrà riconquistarlo e Sherry diventerà soltanto un lontano ricordo. Questo pensa Stephanie. Ma si sbaglia di grosso perché nel maggio del 1984 sei mesi dopo l'inizio della relazione tra John e Sherry i due si fidanzano ufficialmente e Stephanie di nuovo va su tutte le furie. Non può credere che John stia facendo progetti con un'altra donna. Certa che quel futuro spetti a lei non a Sherry. Sono anni che vuole stare con John che intende creare una famiglia con lui quindi nonostante abbia il cuore in frantumi Stephanie cerca di ricompattarlo. È determinata a far lasciare la coppia ritiene che sia davvero giunto il momento di agire in modo concreto. Una sera Stephanie rompe a casa di John come fa spesso. Per ora lui e Sherry abitano ancora ciascuno per conto proprio ma stanno per andare a convivere. Stephanie si dimostra esterica piange e ripete a John che lo ama così tanto. Come farà a stare senza di lui? Non può sposare un'altra donna perché loro sono destinati a stare insieme hanno un legame speciale. Stephanie ha finalmente il coraggio di confessargli che lo ama da così tanti anni ma come ha fatto lui a non averlo mai capito? John però appare sconcertato le risponde che non lo sapeva che gli dispiace ma non prova i suoi stessi sentimenti. Bravo John ha impiegato giusto qualche annetto per dirglielo chiaramente. Io onestamente non credo neanche un po' al fatto che John non sapesse che Stephanie è innamorata di lui e lei non è assolutamente intenzionata ad arrendersi gli ripete che non sa come dimenticarlo e che non può andare avanti con la propria vita perché è innamorata di lui. Poi Stephanie viene colta da un'illuminazione e gli dice d'accordo so cosa mi aiuterà a voltare pagina John ho bisogno di venire a letto con te ancora una volta. E lui pur essendo felicemente fidanzato con un'altra donna e pur non essendo un ingenuo credulone accetta la proposta di consumare un rapporto intimo. I due passano di nuovo la notte insieme John tradisce Sherry ma non ha alcuna intenzione di confessarglielo raccontandosi la scusa che avesse agito in buona fede per soddisfare un ultimo desiderio di Stephanie. Ma il fatto che Stephanie e John sono andati oltre non rimane un segreto a lungo. Stephanie dopo la notte di passione che si è conquistata con John si sfrega le mani in attesa di poterlo dire a Sherry per metterla contro il fidanzato. È l'agosto del 1985 e John e Sherry sono andati da poco a vivere insieme. Sherry sta lavorando quando Stephanie si presenta all'ospedale e entra nell'ufficio di Sherry senza preavviso come suo solito. Come sapete Sherry continua a credere che Stephanie sia soltanto un'amica per John non sa che per anni hanno avuto rapporti intimi. Stephanie le sta davanti indossando un abito succinto vuole sfoggiare il proprio corpo ma Sherry è confusa si chiede unicamente cosa diavolo stia succedendo. Ed ecco che Stephanie fa emergere la propria verità. Dice a Sherry di essere innamorata di John afferma di conoscerlo da molto più tempo e di sapere che è lei che lui vuole veramente. Sherry rimane a bocca aperta ma le rivelazioni di Stephanie non finiscono qui perché la poliziotta riferisce che sono anni che lei e John vanno a letto insieme e non hanno mica smesso. L'ultima volta hanno avuto un rapporto intimo giusto un paio di settimane prima. Sherry scoppia in lacrime non riesce a credere a ciò che sta ascoltando tutto il suo mondo crolla a pezzi. Infine Stephanie la minaccia dicendole se io non posso avere John nessun'altra lo avrà inclusa te. Aggiunge che certamente il suo matrimonio con John fallirà e a quel punto lei sarà lì pronta a consolarlo. Dopodiché Stephanie esce dall'ufficio di Sherry lasciandola devastata. Sherry corre da John e pretende di sapere la verità così lui è costretto ad ammettere che Stephanie non ha mentito. L'ha tradita con lei appena un paio di settimane prima. Tuttavia John non vuole assolutamente che Sherry lo lasci la implora di perdonarlo le dice che ha commesso un errore terribile perché non si era reso conto di quanto la amasse ma ora che rischia di perderla l'ha capito e come e vuole passare il resto della sua vita con lei. E io mi chiedo John ha dovuto andare a letto con un'altra donna per rendersene conto? Ad ogni modo la coppia passa alcuni giorni a discutere e alla fine Sherry decide di perdonare John. Hanno in programma di sposarsi solo tra pochi mesi ma il dramma non finisce qui. Stephanie come detto sperava che le sue rivelazioni avrebbero realizzato il suo scopo facendo in modo che Sherry mollasse John ma siccome non è andata a finire così Stephanie comincia a perseguitare Sherry ogni giorno. Dovunque Sherry vada Stephanie appare come grazie a un sortilegio. Sherry decide di andare a fare la spesa allora Stephanie avverte l'improvviso bisogno di fare acquisti negli stessi negozi. John e Sherry vanno a cena al ristorante allora Stephanie si accomoda al tavolino a fianco a loro e li fissa Sherry va a fare una passeggiata allora Stephanie cammina dietro di lei Stephanie si presenta persino sul posto di lavoro di Sherry sta diventando sempre più inquietante e temibile ovunque vada Sherry si vede inseguita dunque pensa di denunciare Stephanie tuttavia nutre forti dubbi proprio perché Stephanie è un agente di polizia Sherry si sente impotente e quando ormai mancano poche settimane al suo matrimonio con John Stephanie si presenta senza preavviso nel loro condominio indossa di nuovo degli abiti succinti e fa del suo meglio per cercare di attirare John ma anche per intimidire Sherry Stephanie chiede a John se può sciolinarle gli sci ovvero pulire le solette e applicare uno strato di cera che serve a proteggerli dai danni e anche a renderli più scorrevoli ora io ho sciato per tanti anni ed ero rimasta interdetta mentre facevo le ricerche sul caso mi sono domandata se la richiesta di Stephanie ce l'asse poco sottilmente un doppio senso ma non è così perché lei si presenta davvero a casa di John con i propri sci per chiedergli di applicargli sotto la sciolina poi glieli lascia e se ne va ovviamente la sua apparizione causa problemi tra Sherry e John perché lei si arrabbia tantissimo e la coppia inizia a litigare Sherry non vuole che Stephanie le stia intorno e soprattutto non capisce perché John dovrebbe aiutarla a sistemare gli sci non può dimenticare che John l'ha tradita proprio con questa donna durante la discussione John ribadisce a Sherry che Stephanie non significa nulla per lui che potrebbe morire il giorno seguente e a lui non frigherebbe niente ebbene nonostante questo John si adopera per applicare la sciolina vi giuro che mi viene spontaneo pensare ma prendi sti dannati sci e lanciali fuori dal balcone santo cielo ma perché prestarsi a farle questi favori avrebbe dovuto dire chiaramente a Stephanie di andare via con gli sci al seguito e di farsi risciolinare da qualcun altro invece pochi giorni dopo Stephanie torna all'appartamento per riprendersi gli sci e questa volta indossa l'uniforme da poliziotta probabilmente lo fa come forma di intimidazione immaginando che Sherry abbia paura di lei proprio perché è un agente Sherry però si infuria con John perché permette a Stephanie di fare quello che le pare non le dà il confreno non le chiede di non presentarsi più non lo fa mai nonostante tutti questi problemi nel novembre del 1985 John e Sherry si sposano mentre approfondivo questo caso ero quasi certa che sarebbe successo qualcosa di spiacevole durante il matrimonio ho pensato proprio Stephanie non potrebbe mai farsi da parte in un giorno così importante cioè non è proprio nel suo stile ma in realtà mi ha stupita perché non si è affatto presentata durante le nozze sorprendentemente permette alla coppia di godersi quanto meno il giorno della cerimonia tuttavia non è che li lascia in pace perché finalmente ha capito che deve andare avanti con la propria vita bensì perché ha in mente un ultimo terribile piano da mettere in atto nel mese successivo al matrimonio di John e Sherry Stephanie è ancora più agitata in realtà ha pure provato a voltare pagina a trovarsi un fidanzato infatti ha pubblicato degli annunci sul giornale locale in uno dei quali si legge 25 anni laureata a Lucy a lei molto atletica e chi ama viaggiare cerca un uomo alto e atletico tra i 21 e i 31 anni chi ama viaggiare altrettanto con un buon senso dell'umorismo Stephanie sperava di incontrare un uomo che assomigliasse a John infatti paragona a lui tutti i ragazzi con cui esce ma agli occhi di Stephanie nessuno regge il confronto Stephanie scrive quindi sul suo diario che si sente sola e scoraggiata tanto che pure il suo rendimento lavorativo diminuisce viene rimproverata costantemente dai suoi superiori perché commette errori in continuazione reagisce al nervosismo anche in maniera più rabbiosa e violenta e questo soprattutto per un agente di polizia è grave continua a presentarsi senza preavviso a casa di John e Sherry e quest'ultima è compressibilmente furiosa si sta davvero stufando di questa situazione sta trascorrendo il suo primo mese di vita matrimoniale desidera soltanto essere felice e godersi le giornate insieme a suo marito ma Stephanie non lo permette in un'occasione Sherry torna a casa presto dal lavoro John non è ancora rientrato nell'appartamento quindi Sherry è convinta di essere sola e invece che si ritrova nel soggiorno ebbene sì proprio Stephanie è lì seduta con addosso la sua uniforme da poliziotta e la pistola spianata alcune fonti sostengono che lei avendo avuto una relazione con John fosse rimasta in possesso di una coppia della sua chiave di casa dunque ha fatto irruzione senza preoccuparsi di stare abbandonando del proprio potere intimidendo Sherry con la divisa addosso e l'arma in mano a questo punto comprensibilmente Stephanie e Sherry iniziano a discutere Sherry le dice che ne ha abbastanza di lei e chi ora chiamerà la polizia Stephanie allora scoppia a riderle in faccia e le risponde io sono la polizia Sherry ha paura per la sua vita ma Stephanie quanto meno decide di andarsene le fa un sorriso smagliante e la minaccia dicendo tornerò arriviamo al 24 febbraio 1986 Sherry e John si svegliano insieme verso le 7 lui si prepara per andare a svolgere il suo lavoro da ingegnere mentre lei si sente giù di morale quindi decide di non andare al lavoro rimane a casa da sola poi alle 10 di quella mattina Stephanie si presenta davanti all'appartamento sostando fuori dal condominio nota che Sherry non esce di casa ma John lo ha fatto quindi conclude che questa è un'opportunità da non lasciarsi sfuggire Sherry si trova a letto al piano superiore dell'appartamento proprio perché non si sente bene mentre Stephanie entra in casa silenziosamente senza farsi percepire inizia a salire le scale tuttavia quando è quasi arrivata alla camera da letto si accorge che Sherry si è alzata e che sta per scendere al piano di sotto senza esitare Stephanie estrae la pistola calibro 38 la stessa chiusa quando è in servizio quindi non sta nemmeno cercando di coprire le proprie tracce Stephanie spara contro Sherry ma non riesce a centrarla il primo colpo finisce su una porta finestra dietro Sherry e manda in frantume il vetro Sherry è chiaramente terrorizzata urla in preda al panico e prova a scappare Stephanie tenta ancora di spararle ma Sherry riesce a oltrepassarla e corre di sotto augurandosi di raggiungere il pulsante antipanico ma Stephanie è più veloce di Sherry per cui le blocca la strada e le punta di nuovo la pistola contro Sherry però non demorde con coraggio si slancia verso Stephanie e la blocca prendendola per il collo e indirizza la pistola lontano da sé tuttavia Stephanie non ha intenzione di arrendersi così morde con ferocia il braccio di Sherry costringendo quest'ultima ad allentare la presa dopodiché Stephanie afferra un pesante vaso di ceramica e lo spacca sulla testa della povera Sherry che crolla a terra disorientata dal tremendo colpo infine Stephanie solleva la pistola riprende la mira e colpisce Sherry al petto temendo di essere stata incauta recupera una coperta e la avvolge attorno alla pistola per silenziarla e sparare altre due volte al petto della vittima è così che Sherry Rasmussen perde ingiustamente la vita Stephanie non è riuscita superare la sua ossessione per John ha usato la propria posizione per farsi forza nell'attaccare Sherry e il suo sporco lavoro non è ancora finito infatti ora si mette all'opera per allestire una scena del crimine diversa da quella che lei ha creato con le proprie mani come una poliziotta sa come simulare un furto con scasso andato storto così mette a suo quadro l'appartamento rompe una finestra svuota i cassetti fracassa i soprammobili tutto per suggerire alla polizia che si occuperà dell'indagine che i ladri fossero entrati in casa imbattendosi in Sherry e decidendo di spararle per metterla a tacere mentre distrugge l'appartamento Stephanie scorge il certificato di matrimonio di John e Sherry e se ne appropria e io a questo punto mi chiedo perché? visto che vuole farla franca non le conviene far sparire il certificato di matrimonio dell'uomo che ha perseguitato per anni e della donna che sta inseguendo e molestando da mesi giusto? in realtà dovete sapere che Stephanie pensa erroneamente che sottraendo questo documento il matrimonio tra John e Sherry decadrà automaticamente ma no non funziona di certo così inoltre Stephanie ruba anche le chiavi della nuova BMW di Sherry che era un regalo di fidanzamento fatto da John poi fugge dalla scena del crimine passa qualche ora e John in realtà si preoccupa perché non riesce a mettersi in contatto con sua moglie torna a casa alle 18 ovvero 8 ore dopo l'omicidio e si trova davanti una spaventosa scena dell'orrore sua moglie è morta è stata ammazzata John chiama immediatamente i servizi di emergenza e la polizia accorre all'appartamento anche se Stephanie non c'è tra gli agenti intervenuti il che mi ha sorpreso ero convinta che lei avrebbe provato a insinuarsi nell'indagine ad ogni modo la polizia ispezionando la scena del crimine si convince davvero che fosse avvenuto un furto con scasso finito male ma per escludere del tutto John come sospettato deve interrogarlo quindi lo porta in centrale come emerge John ha un alibi solido dato che è stato al lavoro tutto il giorno allora un detective gli chiede se abbia idea di chi possa aver ucciso Sherry qualcuno nutriva rancore nei suoi confronti la risposta potrebbe sembrare alquanto ovvia John sa bene che Stephanie odiava Sherry che perseguitava entrambi da tempo che si presentava a casa loro senza preavviso che sua moglie lo temeva eppure John risponde ai detective no non mi sembra che qualcuno avesse rancore nei suoi confronti onestamente questa replica mi ha lasciata sbigottita come fa John a essere così cieco come può non menzionare la sua folle stalker con cui aveva avuto una storia per anni e con cui aveva tradito Sherry qualche mese prima di sposarla come può non riferire che la stalker stava ancora perseguitando sia lui che la sua ormai defunta moglie mi sembra davvero impensabile che John non sospetti di Stephanie quindi trovo inconcepibile il suo silenzio a causa di questa enorme omissione la polizia non ha sospetti da considerare quindi avvalora la teoria della rapina finita in tragedia non prova neanche a indagare su un eventuale movente alternativo eppure emergono vari segnali che contraddicono la teoria del furto finito male innanzitutto non è stato rubato nulla a parte l'automobile e il certificato di matrimonio l'appartamento sì certo è a suo quadro ma tutti gli oggetti di valore sono ancora in casa la domanda quindi sorge spontanea chi si limiterebbe a rubare un certificato di matrimonio? non può sembrare un furto compiuto da una persona casuale piuttosto c'è dietro un motivo personale così come l'efferato omicidio di Sherry alla vittima hanno sparato tre volte al petto presenta il segno di un morso sul braccio e lividi dappertutto il che suggerisce che sia avvenuta una lotta con l'assassino rendendo meno plausibile l'ipotesi del ladro tuttavia come detto la polizia non prende in considerazione nessun'altra teoria quindi Stefani la fa franca almeno per ora la settimana dopo viene ritrovata la bmw di Sherry ma da essa non si ricava nessuna prova intanto Stefani riferisce che la sua pistola è stata rubata non è prudente per lei usarla dato che è l'arma del delitto e nessuno pensa che ciò sia sospetto se solo la polizia avesse osservato la scena del crimine più attentamente si sarebbe resa conto che i proiettili rinvenuti corrispondono alla pistola di Stefani ma non è finita qui perché Stefani ha accesso a tutti i file riguardanti il caso e quando non c'è nessuno nei paraggi gli esamina e rimuove quelli in cui viene citata quindi se un altro detective avesse analizzato il fascicolo non avrebbe mai letto il nome di Stefani Lazarus e trovato un suo collegamento con Sherry e John di conseguenza passano intere settimane ma ancora non c'è alcun sospettato per l'omicidio di Sherry nel frattempo John non sembra soffrire immensamente per la cruenta morte della sua nuova moglie mentre i genitori di Sherry sono devastati offrono una ricompensa dal valore di 10.000 dollari a chiunque avesse informazioni sull'omicidio della figlia inoltre continuano ad andare dalla polizia per ribadire che Sherry aveva una stalker i suoi genitori purtroppo non sanno che il nome della persecutrice è Stephanie ma la figlia terrorizzata aveva raccontato loro della spiacevole situazione e aveva spiegato che la donna in questione era una poliziotta di Los Angeles poiché la polizia non sembra prendere sul serio questa informazione i genitori di Sherry accusano tutto il dipartimento di insabbiamento affermando che stanno proteggendo una loro agente e sapete allora cosa succede? Niente i detective ridono in faccia ai coniugi Rasmussen definendoli dei pazzi complottisti escludendo anche la minima possibilità che una loro collega possa aver commesso l'omicidio a me resta il dubbio che stessero davvero coprendo Stephanie perché è improbabile che avessero esaminato così superficialmente la scena di un crimine ma anche John a mio avviso ha un atteggiamento sospetto arriviamo così al 1989 sono passati tre anni dall'omicidio di Sherry e il caso è ancora irrisolto non sono emersi indizi né nuove informazioni Stephanie è ancora in servizio come agente di polizia e cosa altrettanto agghiacciante lei e John ricominciano a frequentarsi vi giuro mi chiedo con quale coraggio ci riesca perché sono convinta che sa perfettamente che l'assassina di sua moglie è Stephanie John e Stephanie vanno addirittura insieme in vacanza alle Hawaii e riprendono la loro relazione intima anche se la storia finisce abbastanza rapidamente come già accaduto John incontra un'altra donna e si risposa mentre Stephanie questa volta riesce ad andare avanti con la propria vita trova un altro uomo di nome Scott Young e si sposa anche lei onestamente per me questi risvolti così repentini sono abbastanza sconvolgenti Stephanie è stata ossessionata da John dal primo momento in cui l'ha incontrato ha ucciso una donna innocente a causa della sua fissazione quindi mi viene da pensare che fosse più travolta dalla gelosia nei confronti di Sherry che dell'amore per John spesso Stephanie sembra averlo dimenticato grazie alla relazione con il marito Scott che lavora anche lui per la polizia di Los Angeles i due decidono di adottare una bambina quindi Stephanie diventa mamma il suo lavoro procede bene ottiene pure una promozione e diventa detective nella vita dell'assassina ogni tassello sembra incastrarsi alla perfezione passano ben 15 anni Stephanie è una famiglia unita ha sviluppato una carriera di grande successo e viene promossa a detective di furti d'arte percependo un ottimo stipendio sta sperimentando un'esistenza soddisfacente dopo aver tolto a Sherry la possibilità di continuare a vivere la propria ma non potrà crogiolarsi per sempre perché la rovina di Stephanie si manifesta grazie ai progressi delle tecniche di analisi del DNA come sappiamo il diritto di Sherry era avvenuto nel 1986 e nel 2004 18 anni dopo la criminalista Jennifer Francis del dipartimento di polizia di Los Angeles un'esperta di test genetici si sofferma su questo caso e risolto si rende conto che mancano i campioni di DNA prelevati dalla ferita al braccio di Sherry quella causata dal morso che Stephanie le aveva dato quando la vittima le aveva bloccato il collo la polizia aveva prelevato un campione dalla saliva dell'assassino eppure non l'aveva mai analizzato in più il tampone risulta sparito nessuno degli agenti impegnati sul caso si era preso la briga di cercarlo e di recuperarlo ritenendo che fosse troppo complicato e questo a me suona come un insabbiamento ma Jennifer al contrario non molla insiste sul fatto che bisogna trovare il campione e analizzarlo perché ora con i progressi della tecnologia forense è più semplice risalire il colpevole grazie alla collaborazione di alcuni agenti Jennifer riesce effettivamente a trovare il tampone smarrito tuttavia quando lo testa non ottiene alcun profilo corrispondente perché Stephanie non è registrata nel database cioè nonostante si compie un enorme passo avanti nell'indagine perché emerge che il DNA in questione appartiene a una donna questa rivelazione imprime una svolta gigantesca al caso perché fino a ora primeggiava la teoria del furto con scasso finito male con la convinzione che fosse stato un uomo ad aver fatto irruzione nell'abitazione di John e Sherry uccidendo quest'ultima perché non si aspettava che fosse presente in casa ed era andato nel panico ora dopo l'inaspettata scoperta che il colpevole è una donna la teoria della tentata rapina decade sia sulla base delle statistiche della criminalità sia per un'esigenza di revisionare i motivi personali che potevano aver guidato l'assassina dunque la polizia dovrebbe considerare altre ipotesi ma Jennifer si scontra con la reticenza dei detective nel prendere sul serio questo caso ancora una volta passano così altri 5 anni e ne sono trascorsi ormai 23 dall'omicidio Stephanie ha quasi 50 anni quando nel 2009 il detective Phil Moret dell'unità case irrisolti prende in carico quello di Sherry Rasmussen il detective riunisce la sua squadra e la invita a osservare la vicenda dalla prospettiva in cui l'assassina è una donna quando Phil esamina il fascicolo sull'omicidio apprende che i genitori di Sherry avevano ripetuto alla polizia che la figlia aveva una stalker una sua rivale d'amore preda della gelosia che era anche un agente di polizia Phil analizzando attentamente le foto della scena del crimine conclude che era stata manipolata e questo testimonierebbe che la colpevole aveva una vasta conoscenza della materia quindi può davvero essere una poliziotta Phil incarica la sua squadra di esaminare ogni singolo documento relativo a questo caso per risalire all'identità di tutte le donne con cui John era entrato in contatto a questo proposito anche se Stephanie aveva fatto del suo meglio per rimuovere il suo nome dal fascicolo le era sfuggito un riferimento Stephanie Lazarus viene menzionata come l'ex fidanzata di John un errore da cui lei non avrà scampo come Phil scopre Stephanie Lazarus era un agente di polizia nel 1986 quindi i genitori di Stephanie non avevano delle convinzioni infondate se la polizia avesse seguito la pista da loro indicata avrebbe risolto il caso più di due decenni prima la cosa che sconvolge ulteriormente Phil è che Stephanie Lazarus attualmente è una detective e soprattutto lavora nel suo stesso ufficio al momento però lui non può precipitarsi da Stephanie e accusarla perché occorrono maggiori prove un ottimo punto di partenza è il DNA dell'assassina testato 5 anni prima quello rappresenterebbe una prova schiacciante ma devono sperare che corrisponda al profilo genetico di Stephanie anche in questo caso Phil non può chiederle di fornirgli un campione ma istituisce una squadra a cui spetta il compito di sorvegliare Stephanie un giorno Stephanie esce da Costco una grande catena di permercati all'ingrosso bevendo il suo drink bevendo la sua Coca Cola i detective la osservano mentre la finisce e cestina il recipiente nella spazzatura che poi loro recuperano finalmente possono testare il DNA di Stephanie per scoprire se c'è una corrispondenza con quello dell'assassina a distanza di un mese arrivano i risultati che confermano i sospetti emerge la corrispondenza l'omicida di Sherry Rasmussen e proprio Stephanie Lazarus che era riuscita a farla franca per ben 25 anni e continuando sempre a lavorare nella polizia bisogna arrestare Stephanie e interrogarla ma agendo con cautela visto che lei ha sempre una pistola con sé c'è il rischio che sentendosi braccata dagli investigatori possa scatenare uno scontro a fuoco Phil allora scogita un piano ingegnoso contando sul fatto che quando un agente di polizia entra nella stanza degli interrogatori non gli è permesso di portare l'arma infatti deve prima depositarla dunque un giorno Phil comunica a Stephanie che ha in custodia un sospettato accusato di un furto d'arte che è materia di cui si occupa lei Stephanie che si compiace di essere interpellata soprattutto dai suoi superiori accetta volentieri di collaborare e deposita la pistola nel rispetto della prassi standard a garanzia di un ambiente sicuro non sospetta nulla una volta entrata nella stanza si siede convinta di dover interrogare questo sospettato è invece lei che viene interrogata potete guardare l'interrogatorio integrale su youtube si nota che i detective si comportano in modo disinvolto all'inizio e Stephanie è convinta che il sospettato stia per essere condotto nella stanza intanto chiacchierano del più e del meno e Stephanie è molto tranquilla ma poi di colpo un detective la fissa e le domanda se qualcosa di un certo John Ruten Stephanie prova a non darla a vedere ma è assalita dal panico probabilmente in questo momento capisce cosa sta succedendo davvero il suo respiro cambia e anche il suo atteggiamento così i detective le chiedono se fosse mai uscita con appunto questo John Stephanie risponde che sì lo ha fatto un milione di anni fa ai tempi del college e fatica a ricordare ma non è credibile che si sia dimenticata di un uomo che ha perseguitato per ben dieci anni i detective vanno ancora oltre chiedono a Stephanie se sa che la prima moglie di John era stata assassinata la erriba dice che è passato tanto tempo si comporta come se non avesse conosciuto Sherry l'interrogatorio prosegue a lungo e Stephanie intuisce che i detective sanno bene cosa ha fatto così crolla e dice penso di aver bisogno di un avvocato da adesso non parlerò più esce dalla stanza ma c'è un agente che l'aspetta appena fuori dalla porta Stephanie quindi viene arrestata per l'omicidio di Sherry è costretta a tornare nella stanza degli interrogatori e trovo sia soddisfacente vederla finalmente in manette a 25 anni di distanza dall'omicidio che ha commesso l'indagine continua gli investigatori provano a raccogliere il maggior numero possibile di prove e il processo si svolge tre anni dopo nel marzo del 2012 l'unico appiglio della difesa di Stephanie è cercare di screditare la prova del DNA affermando che sia inaffidabile a causa del tempo trascorso ma non è una tattica che funziona fortunatamente Stephanie Lazarus viene giudicata colpevole dell'omicidio di Sherry Rasmussen sono ovviamente contenta che venga fatta giustizia peccato che arrivi con un ritardo di 25 anni Stephanie nel frattempo ha vissuto appieno la propria vita si è sposata ha creato una famiglia e ha avuto una carriera di successo viene condannata a 27 anni di prigione e a mio avviso questa non è affatto una pena sufficiente dobbiamo considerare che Stephanie ha commesso un omicidio premeditato e non colposo che aveva anche manomesso le prove e che era un agente di polizia e c'è un risvolto della sentenza ancora più esasperante perché l'anno successivo ne viene concessa la libertà condizionale fortunatamente la situazione viene ribaltata in appello ma la concessione della libertà condizionale è una questione che sembra tornare a galla e la famiglia della vittima non può che reagire con indignazione in questo momento Stephanie è ancora in prigione ma per quanto tempo ci rimarrà ancora? finora ha scontato 12 anni di prigione ma se a breve le verrà concessa la libertà condizionale uscirà 60 anni potrà vivere il resto della sua vita con la sua famiglia e credo che non meriti questo privilegio parliamo ora di John perché è un altro protagonista della vicenda che mi ha suscitato tanta rabbia ragazzi davvero davvero tanta è vero non è un assassino ma non lo considero neanche innocente secondo me John avrebbe potuto aiutare a risolvere l'omicidio proprio all'epoca in cui era stato consumato lui conosceva a fondo Stephanie e sapeva che perseguitava Sherry con ostinazione se avesse fatto menzione di lei sicuramente sarebbe stata catturata e condannata moltissimi anni prima sono poi enormemente dispiaciuta per i genitori di Sherry sono stati completamente ignorati per così tanto tempo non è così che si indaga ho scoperto che entrambi sono venuti a mancare negli ultimi cinque anni e quantomeno mi conforta il fatto che sono riusciti a vedere l'assassina della figlia mentre veniva consegnata alla giustizia io spero che abbiano lasciato questa terra con un po' più di serenità nell'animo anche se niente ha potuto riportare indietro Sherry neanche la condanna di Stephanie a questo punto vorrei concludere il video ricordando la vittima del caso affrontato Sherry Rasmussen è stata descritta come una persona gentile compassionevole ed estremamente premurosa i suoi genitori la adoravano aveva molto talento lavorava straordinariamente e con passione dedicando la sua vita alla cura del prossimo era diventata una delle direttrici infermieristiche più giovani del paese ma la sua esistenza è stata interrotta troppo presto aveva soltanto 29 anni arriviamo alle riflessioni finali questo caso come detto mi suscita molta rabbia perché sono convinta che c'era la possibilità di incarcerare Stephanie tanto ma tanto tempo prima e perché non sono riuscita a spiegarmi l'atteggiamento di John io mi chiedo a quale scopo non ha pronunciato il nome di Stephanie durante l'interrogatorio della polizia perché voleva salvarla dalla prigione nonostante gli avesse ammazzato la moglie il suo comportamento non è davvero comprensibile almeno per me per non parlare dell'operato pervenuto e approssimativo della polizia che non dovrebbe certamente lavorare così come si fa a indagare e ad accantonare un caso di omicidio in modo talmente superficiale stiamo parlando della vita di una persona la vita di Sherry valeva così poco perché non hanno controllato attentamente la scena del crimine perché non hanno valutato altre piste e ipotesi oltre al furto con scasso avrei piacere di confrontarmi con voi quindi fatemi sapere insomma che cosa ne pensate io sono molto curiosa di leggere i vostri commenti quindi prima di tutto fatemi sapere se conoscevate questo caso e poi fatemi sapere cosa ne pensate e che sensazioni vi ha suscitato questo caso che emozioni che cosa avete provato io nel frattempo vi mando un bacione noi ci vediamo prestissimo al prossimo video mi raccomando fate i bravi continuate a mangiare le verdure che continuano a far bene ma soprattutto prendetevi cura di voi e fate ciò che vi rende felici basta che non facciate nulla di criminale ciao a tutti ciao a tutti ciao a tutti ciao a tutti